Pane marmellata e frutta fresca da una parte, snack e merendine confezionate dall'altra. L'ABC della salute parte da qui, assieme alla cultura dell'antispreco e della sostenibilità ambientale. Su queste basi poggia la merendina Tax Free che verrà distribuita domattina in piazza montagnana agli scolari della cittadina Murata. Oltre 400 bambini saranno accompagnati da genitori e insegnanti per un progetto di educazione alimentare che li vedrà coinvolti in lezioni in aula, visite alle fattorie didattiche ed escursioni nei mercati di Campania Amica. L'iniziativa è infatti promossa da Coldiretti e Donnimpresa Veneto in collaborazione con il Comune.